salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo a river park morro d'oro con il team martens mariotto enzo già attrezzati pronti per il sabato di test prove in vista della gara di domani siamo tra poco in pista andiamo a farci una scarichetta ragazzi no 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 Grazie a tutti. 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 Super soft. Grazie a tutti.